La storia di G Group nasce nel 1948 con la General Auto. La General Auto è ormai diventata una delle più rinomate aziende specialiste nella distribuzione dei ricambi auto in sud Italia. Nel 2018 c'è stato un evento importante, il nostro gruppo è entrato a far parte di Autodesk Italia. Attualmente in G Group vengono venduti circa 7 milioni di ricambi in un anno, ovvero circa 30 mila al giorno, con un personale di oltre 150 unità. La quasi totalità degli ordini arrivano tramite il nostro e-commerce. Per sostenere la crescita del nostro business, la nostra sfida è stata quella di centralizzare tutta l'infrastruttura dell'RP. L'obiettivo era quello di farlo in 12 mesi, ma l'abbiamo raggiunto dopo pochissimi mesi. Sicuramente non avremmo scelto un altro partner, quindi l'alternativa era quello di gestire l'hardware on-premises, ma questo sicuramente ci avrebbe impedito di stare a passo con la forte crescita che abbiamo avuto in questi ultimi mesi. L'obiettivo da raggiungere con l'approccio al cloud era sicuramente la business continuity. G Group non può permettersi momenti di down, comporterebbe una perdita di fatturato a vantaggio ovviamente della concorrenza. Per noi è importantissimo non fermarci mai. Un'ora di down stimiamo un danno di circa 50.000 euro. I benefici ottenuti con AWS sono andate anche oltre le nostre aspettative. Siccome il nostro fatturato è notevolmente aumentato, ci siamo trovati in corso d'opera a dover rimodulare le macchine e questo grazie alla scalabilità è stato possibile con dei semplici clic senza alcun fermo dell'attività.